GRS, giornale radio e sociale. Lo sport a integrazione si è aperta ieri a Castelfranco Emilia in provincia di Modena la diciannovesima edizione dei mondiali antirazzisti organizzati dal WISPA. Il servizio è di Ivano Maiorella. Iniziano ufficialmente i mondiali antirazzisti 2015. Let's start with mondiali antirazzisti 2015. Ieri a Castelfranco Emilia in provincia di Modena diciannovesima edizione dei mondiali antirazzisti organizzati dal WISPA. Fischio d'inizio per 170 squadre di calcio e altre 60 di basket, pallavolo, rugby e touchball. In tutto 4.000 ragazzi e ragazze, migranti e tifosi ultra arrivati da ogni parte d'Italia ed Europa per dire stop al razzismo e stop ad ogni tipo di discriminazione.